Benvenuti da MacVenture in questo nuovo corso dove noi andremo a parlare di render con vray siamo nella release vray next potete utilizzare anche altre release ed in particolare siamo nella release 2020 3ds max ed sarà importante utilizzare delle librerie che io vi ho preparato in questo caso saranno compatibili con questa release perché quando si salvano librerie di materiali in 3ds max lui si ricorda su che release è stata salvata quindi potrei salvarvi i file di esercizio ad esempio delle release tipo 2017 ma le librerie no perché lui dopo le identifica quindi bisogna partire da questa release di 3ds max e nello specifico parliamo di material library che sono ad esempio queste che noi utilizzeremo ed per fare questo il corso è incentrato sull'utilizzo delle md materials noi abbiamo studiato in due corsi precedenti i materiali AC e i materiali design quindi se avete seguito questi corsi avrete queste librerie di rendere in questo caso quindi sarà necessario ad esempio avere carpet concrete eccetera che non sono altro che una mappa di navigazione per andare a scegliere un materiale quindi se io dovrò scegliere ad esempio un materiale per quanto riguarda il wood io ho già su queste tipologie di librerie una panoramica su quello che io potrò trovare all'interno ad esempio di design wood AC wood cosa che è disponibile anche comunque nel md material che abbiamo già visto ma con dei template molto molto piccoli ed è di poca diciamo consultazione se invece io devo selezionare un materiale di questo tipo so qual è il risultato quello che troveremo in più all'interno di questo corso sarà un contributo che io vi ho preparato e appunto le librerie quindi da una parte noi abbiamo questi template che possiamo consultare sui corsi mdl AC e mdl design ed in questo corso invece voi avete un contributo che è questo queste sono librerie impostate per vray cosa che non è disponibile al momento perché sono solo librerie impostate per iray questo significa che quando io dovrò andare a scegliere un materiale in relazione a quelli che sono appunto i template se voglio avere una visione quelli che appunto sono i nostri template avrò anche però la possibilità di avere la controparte delle librerie quindi se io ho bisogno open materials library voi avrete una libreria direttamente all'interno del corso ed avrete le stesse librerie che ho io qua quindi ad esempio concrete fabric glass ground tutta AC e tutti i design quindi da questo momento in poi noi utilizzeremo queste librerie questo significa che quando entrano il motore di render di vray perché bisogna essere impostati ovviamente per vray altrimenti non le vedete ah eh sì ad esempio voglio un pannello concrete mi prendo il mio pannello concrete e qui dentro ho tutti i vari miei template eccoli qua